24 giugno 217 avanti cristo battaglia del lago trasimeno seconda guerra punica l'esercito cartaginese guidato dal condottiero annibale composto da 25 mila uomini dopo aver varcato la gallia cisalpina coglie di sorpresa le legioni romane sul lago trasimeno sconfiggendo i 40 mila del console gaio flaminio la battaglia spicca per importanza anche nella storia della tattica è una vittoria per superiorità di manovra la posizione delle forze sul terreno costringe l'avversario alla resa annibale applica la lezione militare ellenistica meno potente e compatto delle armate greche il suo esercito è versatile su ogni tipo di terreno anche grazie a 37 elefanti costretto ad affrontare un nemico più potente il condottiero cartaginese pianifica una guerra lampo la seconda guerra punica invece come racconta tito livio proseguirà per altri 15 anni causando circa 100 mila morti e altrettanti prigionieri particolarmente tragica la disfatta nella battaglia di canne il 2 agosto dell'anno successivo roma lascia sul campo 50 mila uomini tra i quali 80 senatori e 30 tribuni la strategia di annibale fallirà il 19 ottobre del 202 avanti cristo a zama dove il console publio cornelio scipione riporterà roma alla vittoria e da allora verrà chiamato scipione l'africano cornelio scipione riporterà roma alla vittoria cornelio scipione rip consello cornelio settimane calcone riporterà roma cornelio